le avventure di pinocchio di carlo collodi letto da libri in pillole capitolo 33 pinocchio è diventato un ciuchino vero è portato a vendere e lo compra il direttore di una compagnia di pagliacci per insegnargli a ballare e saltare i cerchi ma una sera azzoppisce e allora lo ricompra un altro per far con la sua pelle un tamburo vedendo che la porta non si apriva l'omino la spalancò con un violentissimo calcio ed entrato nella stanza disse con il suo solito risolino a pinocchio e a lucignolo bravi ragazzi avete ragliato bene io vi ho subito riconosciuti alla voce e per questo eccomi qui a tali parole i due ciuchini rimasero mogi mogi con la testa giù con gli orecchi bassi e con la coda fra le gambe da principio l'omino li lisciò li accarezzò li palpeggiò poi tirata fuori la striglia cominciò a strigliarli per bene e quando a furia di strigliarli li ebbe fatti lustri come due specchi allora messe loro la cavezza e li condusse sulla piazza del mercato con la speranza di venderli e di beccarsi un discreto guadagno e i compratori di fatti non si fecero aspettare lucignolo fu comprato da un contadino a cui era morto il somaro il giorno avanti e pinocchio fu venduto al direttore di una compagnia di pagliacci e di saltatori di corda il quale lo comprò per ammaestrarlo e per farlo poi saltare e ballare insieme con le altre bestie della compagnia e ora avete capito miei piccoli lettori qual era il bel mestiere che faceva l'omino questo brutto mostriciattolo che aveva la fisionomia tutta di latte e miele andava di tanto in tanto con un carro a girare per il mondo strada facendo raccoglieva compromesse con moine tutti i ragazzi svogliati che avevano annoia i libri e le scuole e dopo averli caricati sul suo carro li conduceva nel paese dei balocchi perché passassero tutto il loro tempo in giochi in chiassate in divertimenti quando poi quei poveri ragazzi illusi a furia di baloccarsi sempre e di non studiare mai diventavano tanti ciuchini allora tutto allegro e contento si impadroniva di loro e li portava a vendere sulle fiere sui mercati e così in pochi anni aveva fatto fior di quattrini ed era diventato milionario quel che accadesse di lucignolo non lo so so peraltro che pinocchio andò incontro fin dai primi giorni a una vita durissima e strapazzata quando fu condotto nella stalla il nuovo padrone gli empì la greppia di paglia ma pinocchio dopo averne assaggiata una boccata la risputò allora il padrone brontolando gli empì la greppia di fieno ma neppure il fieno gli piacque ah non ti piace neppure il fieno gridò il padrone imbizzito lascia fare ciuchino bello che se hai dei capricci per il capo penserò io a levarteli e a titolo di correzione gli affibbiò subito una frustata nelle gabbe pinocchio dal gran dolore cominciò a piangere e a ragliare e ragliando disse io io la paglia non la posso digerire allora mangia il fieno replicò il padrone che intendeva benissimo il dialetto asinino io io il fieno mi fa dolere il corpo pretenderesti dunque che un somaro pari tuo lo dovesse mantenere a petti di pollo e cappone in galantina soggiunse il padrone arrabbiandosi sempre più e affibbiandogli una seconda frustata a quella seconda frustata pinocchio per prudenza si chetò subito e non disse altro intanto la stalla fu chiusa e pinocchio rimase solo e perché erano molte ore che non aveva mangiato cominciò a sbadigliare dal grande appetito e sbadigliando spalancava una bocca che pareva un forno alla fine non trovando altro nella greppia si rassegnò a masticare un po di fieno e dopo averlo masticato ben bene chiuse gli occhi e lo tirò giù questo fieno non è cattivo poi disse dentro di sé ma quanto sarebbe stato meglio che avessi continuato a studiare a quest'ora invece di fieno potrei mangiare un cantuccio di pan fresco e una bella fetta di salame pazienza la mattina dopo svegliandosi cercò subito nella greppia un altro po di fieno ma non lo trovò perché l'aveva mangiato tutto nella notte allora prese una boccata di paglia tritata e in quel mentre che la stava masticando si dove persuadere che il sapore della paglia tritata non somigliava appunto né al risotto alla milanese né ai maccheroni alla napoletana pazienza ripete continuando a masticare che almeno la mia disgrazia possa servire di lezione a tutti i ragazzi disobbedienti e che non hanno voglia di studiare pazienza 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 un corno urlò il padrone entrando in quel momento nella stalla credi forse mio bel ciuchino che io t'abbia comprato unicamente per darti da bere da mangiare io ti ho comprato perché tu lavori e perché tu mi faccia guadagnare molti quattrini su dunque da bravo vieni con me nel circo e là ti insegnerò a saltare i cerchi a rompere col capo le botti di foglio e a ballare il valzare la polca stando ritto sulle gambe di dietro il povero pinocchio per amore o per forza dove imparare tutte queste bellissime cose ma per impararle gli ci vollero tre mesi di lezioni e molte frustate da levare il pelo venne finalmente il giorno in cui il suo padrone poté annunziare uno spettacolo veramente straordinario i cartelloni di vario colore attaccati alle cantonate delle strade dicevano così grande spettacolo di gala per questa sera avranno luogo i soliti salti ed esercizi sorprendenti eseguiti da tutti gli artisti e da tutti i cavalli d'ambo i sessi della compagnia e più sarà presentato per la prima volta il famoso ciuchino pinocchio detto la stella della danza il teatro sarà illuminato a giorno quella sera come potete figurarvelo un'ora prima che cominciasse lo spettacolo il teatro era pieno stipato non si trovava più né una poltrona né un posto distinto né un palco nemmeno a pagarlo a peso d'oro le gradinate del circo formicolavano di bambini di bambine e di ragazzi di tutte le età che avevano la febbre addosso per la smania di veder ballare il famoso ciuchino pinocchio finita la prima parte dello spettacolo il direttore della compagnia vestito in giubba nera calzoni bianchi a coscia e stivaloni di pelle fin sopra i ginocchi si presentò all'affollatissimo pubblico e fatto un grande inchino recitò con molta solennità il seguente spropositato discorso rispettabile pubblico cavalieri e dame l'umile sottoscritto essendo di passaggio per questa illustre metropolitana ho voluto procrearmi l'onore nonché il piacere di presentare a questo intelligente e cospicuo uditorio un celebre ciuchino che ebbe già l'onore di ballare al cospetto di sua maestà l'imperatore di tutte le principali corti d'europa e col ringraziandoli aiutateci della vostra animatrice presenza e compatiteci questo discorso fu accolto da molte risate da molti applausi ma gli applausi raddoppiarono e diventarono una specie di uragano alla comparsa del ciuchino pinocchio in mezzo al circo egli era tutto agghindato a festa aveva una briglia nuova di pelle lustra con fibbie e borchi e dottone due cameli e bianche agli orecchi la criniera divisa in tanti riccioli legati con fiocchettini di seta rossa una gran fascia d'oro ed argento attraverso alla vita e la coda tutta intrecciata con nastri di velluto paonazzo e celeste era insomma un ciuchino da innamorare il direttore nel presentarlo al pubblico aggiunse queste parole miei rispettabili auditori non starò qui a farvi menzogne delle grandi difficoltà da me soppressate per comprendere e soggiogare questo mammifero mentre pascolava liberamente di montagna in montagna nelle pianure della zona torrida osservate vi prego quanta selvaggina trasudida e suocchi con ciossia che essendo riusciti vanitosi tutti i mezzi per addomesticarlo al vivere dei quadrupe di civili ho dovuto più volte ricorrere all'affabile dialetto della frusta ma ogni mia gentilezza invece di farmi da lui benvolere me ne ha maggiormente cattivato l'animo io però seguendo il sistema di galles trovai nel suo cranio una piccola cartagine ossea che la stessa facoltà medicea di parigi riconobbe esser quello il bulbo rigeneratore dei capelli e della danza pirrica e per questo io lo voglio ammaestrare nel ballo nonché nei relativi salti dei cerchi e delle botti foderate di foglio ammiratelo e poi giudicatelo prima però di prendere cognato da voi permettete o signori che io vi inviti al diurno spettacolo di domani sera ma nell'apoteosi che il tempo piovoso minacciasse acqua allora lo spettacolo invece di domani sera sarà posticipato a domattina alle ore 11 antimeridiane del pomeriggio e qui il direttore fece un'altra profondissima riverenza quindi volgendosi a pinocchio gli disse animo pinocchio avanti di dar principio ai nostri esercizi salutate questo rispettabile pubblico cavalieri dame e ragazzi pinocchio ubbidiente piegò subito i due ginocchi davanti e rimase inginocchiato fino a tanto che il direttore schioccando la frusta non gli gridò al passo allora il ciuchino si rizzò sulle quattro gambe e cominciò a girare intorno al circo camminando sempre di passo dopo un poco il direttore gridò al trotto e pinocchio ubbidiente al comando cambiò il passo in trotto al galoppo e pinocchio staccò il galoppo alla carriera e pinocchio si dette a correre di gran carriera ma in quella che correva come un barbero il direttore alzando il braccio in aria scaricò un colpo di pistola a quel colpo il ciuchino fingendosi ferito cadde disteso nel circo come se fosse moribondo davvero rizzatosi da terra in mezzo a uno scoppio di applausi d'urli e di battimani che andavano alle stelle gli venne naturalmente di alzare la testa e di guardare in su e guardando vide in un palco una bella signora che aveva al collo una grossa collana d'oro dalla quale pendeva un medaglione nel medaglione c'era dipinto il ritratto d'un burattino quel ritratto è il mio quella signora è la fata disse dentro di sé pinocchio riconoscendola subito e lasciandosi vincere dalla gran contentezza si provò a gridare oh fatina mia fatina mia ma invece di queste parole gli uscì dalla gola un raglio così sonoro e prolungato che fece ridere tutti gli spettatori e segnatamente tutti i ragazzi che erano in teatro allora il direttore per insegnargli e per fargli intendere che non è buona creanza mettersi a ragliare in faccia al pubblico gli die col manico della frusta una bacchettata sul naso il povero ciuchino tirato fuori un palmo di lingua durò a leccarsi il naso almeno cinque minuti credendo forse così di rasciugarsi il dolore che aveva sentito ma quale fu la sua disperazione quando voltandosi in su una seconda volta vide che il palco era vuoto e che la fata era sparita si sentì come morire gli occhi gli si empirono di lacrime e cominciò a piangere dirottamente nessuno però se ne accorse e meno degli altri il direttore il quale anzi schioccando la frusta gridò da bravo pinocchio ora farete vedere a questi signori con quanta grazia sapete saltare i cerchi pinocchio si provò due o tre volte ma ogni volta che arrivava davanti al cerchio invece di attraversarlo ci passava più comodamente di sotto alla fine spicco un salto e l'attraversò ma le gambe di dietro gli rimasero disgraziatamente impigliate nel cerchio motivo per cui ricadde in terra dall'altra parte tutto in un fascio quando si rizzò era azzoppito e a malapena poter ritornare alla scuderia fuori pinocchio vogliamo il ciuchino fuori il ciuchino gridavano i ragazzi della platea impietositi e commossi al tristissimo caso ma il ciuchino per quella sera non si fece più vedere la mattina dopo il veterinario ossia il medico delle bestie quando l'ebbe visitato dichiarò che sarebbe rimasto zoppo per tutta la vita allora il direttore disse al suo garzone di stalla che vuoi tu che mi faccia ad un somaro zoppo sarebbe un mangia pane a ufo portalo dunque in piazza e rivendilo arrivati in piazza trovarono subito il compratore il quale domandò al garzone di stalla quanto vuoi di cotesto ciuchino zoppo venti lire io ti do venti soldi non credere che lo compri per servirmene lo compro unicamente per la sua pelle vedo che ha la pelle molto dura e con la sua pelle voglio fare un tamburo per la banda musicale del mio paese lascio pensare a voi ragazzi il bel piacere che fu per il povero pinocchio quando sentì che era destinato a diventare un tamburo fatto sta che il compratore appena pagati i venti soldi condusse il ciuchino sopra uno scoglio che era sulla riva del mare e messogli un sasso al collo e legatolo per una zampa con una fune che teneva in mano gli die improvvisamente uno spintone e lo gettò nell'acqua pinocchio con quel macigno al collo andò subito a fondo e il compratore tenendo sempre stretta in mano la fune si pose a sedere sullo scoglio aspettando che il ciuchino avesse tutto il tempo di morire affogato per poi scorticarlo e levargli la pelle